Il Bari batte il primo colpo sul mercato e fatta per l'arrivo in biancorosso di Carlo Lulic, centrocampista croato 27enne di proprietà del Frosinone. Con il giallo-blu ha collezionato 49 presenze in due anni e mezzo, mettendo a segno due golle e sei assist. Ambidestro, dotato di buona tecnica, Lulic è il classico centrocampista duttile che può ricoprire più ruoli in mediana. Il primo squillo sul mercato, a trattative appena aperte, preannuncia una sessione invernale particolarmente movimentata. Il direttore sportivo dei biancorossi, Ciro Polito, è sempre a caccia di una punta. Giorg Puskas sembra il profilo più appetibile per i biancorossi. L'attaccante romeno del Genoa non ha avuto molto spazio in Serie A e potrebbe accettare di buon grado un ritorno da protagonista a Bari, anche se in una categoria inferiore. L'asse caldo con il Frosinone potrebbe portare altri giocatori. Baits e Bidawi sono sul tacquino di Polito, pronto all'assalto per regalare a Marino rinforzi sulle fasce d'attacco. Per il ruolo di terzino sinistro piace Raffaele Celia della Spalla e Antonio Barreca della Sampdoria, che potrebbe rientrare in uno scambio con Gianluca Frabotta. In uscita, oltre al terzino ex Juventus, potrebbero partire anche Aramu, Acampora e Morachioli.